Facciamo volare il per tre Ciao ragazzi, sono in piazza Gaulenti a Milano e sono qui per provare X-Puddle Tirefield il primo campo veloce omologato dalla FTP Non vedo l'ora di far volare il mio per tre, andiamo! Viaggia questo campo eh Il campo è progettato in collaborazione tra Casali ed Ecopneus ed è stato realizzato con un sistema di pavimentazione innovativa in resina e gomma riciclata proveniente da pneumatici fuori uso E adesso vado a provarlo un po' in difesa Ottima risposta elastica con aumento della rapidità di tutti i colpi d'attacco soprattutto quelli in kick Queste sono le mie impressioni dopo aver provato tutto il pomeriggio questo campo in piazza Gaulenti Altra cosa positiva, maggiore spin nei colpi quindi quando tentate i colpi ad effetto avrete sempre un'ottima risposta da parte del campo Ed ho sentito il campo molto più ammortizzato del solito È vero? Assolutamente sì, questo campo ha un comportamento meccanico, almeno biomeccanico quindi in relazione all'uomo completamente diverso Abbiamo fatto uno studio e abbiamo rilevato che X-Paddle Tirefield è in grado di sviluppare un assorbimento all'energia verticale superiore di stressare meno le strutture corporeo così inibire quelli che sono gli infortuni classici di un gioco con sovraccarichi come il paddle quindi mal di schiena, male alle ginocchia, tutte queste problematiche inoltre è un tagliatore di vibrazioni per cui arrivano meno vibrazioni sull'organismo E su questo argomento so tutto perché i campi X-Paddle Tirefield sono realizzati con resina e gomma riciclata da pneumatici fuori uso ai quali Ecopneus assicura una seconda vita Per i centri sportivi questi campi possono essere una perfetta soluzione per far bene all'ambiente e contenere i costi visto che hanno una vita più che doppia rispetto ai tradizionali campi in erba artificiale e sono rigenerabili con un semplice retopping quindi in conclusione questo campo è veloce ed accentua gli effetti di tutti i colpi perfetto per i giocatori che amano il gioco veloce e vogliono tirare fuori la palla con un per tre come nel tennis servono nuove strategie di gioco da porre in atto proprio come tra cemento ed erba superficie più stabile e maggiore sicurezza nella prevenzione degli infortuni grazie al tappetino in gomma riciclata è omologato PTP, conforme alla norma UNE ed è un'ottima soluzione per i circoli una vera e propria rivoluzione per il nostro mondo ora però torno a giocare Play Different commenta Abpro Abpro Qual 맛